Semaforo di Sarsson di Bassano, croce degli automobilisti che percorrono la vecchia campesana in salita e in discesa, non solo per la posizione ma anche e soprattutto per le code di mezzi che crea. Tante le riflessioni aperte negli anni su quello che è stato battezzato il semaforo della discordia. Della questione ci siamo occupati anche nei nostri TG in più occasioni, forse ora qualcosa si sta muovendo. Quello di Sarsson ha una problematica soprattutto dovuta alla programmazione perché di vecchia generazione è prevista la sua sostituzione con uno nuovo, l'importo lavori si aggira tra i 35 e i 40 mila euro, appena ci sarà la disponibilità da parte del bilancio lo faremo subito. Entro la primavera 2025 ci fa sapere l'assessore Zonta, i lavori potrebbero essere conclusi.